Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati, oggi passiamo dalla skincare al makeup e chiudiamo con un profumo che sto amando particolarmente. Skincare, il mio percorso con Diut continua, velocemente per chi non lo conoscesse, Diut è un brand ispirato alle zone blu del nostro pianeta. Che cosa sono le zone blu? Quelle zone, sono cinque nel mondo e una la ospitiamo proprio noi in Italia e della nostra Sardegna, in cui viene registrata la più alta longevità. Fondamentalmente le persone di quelle zone, gli abitanti di queste zone, vivono meglio e più a lungo. Chiaramente non per una questione di fortuna o di casualità, ma perché ci sono tutta una serie di fattori favorevoli, a partire dal clima e di conseguenza tanti altri come la vegetazione, come di conseguenza l'alimentazione. Ed è proprio in queste zone blu del mondo che Diut ricerca gli ingredienti da inserire nei suoi prodotti cosmetici. Spesso sono ingredienti riconducibili ad una saggezza popolare, secolare, per esempio l'aloe vera, il caffè, l'olio d'oliva. Se inizialmente ho potuto da subito godere della sensorialità che i prodotti Diut mi regalano, sotto tutti i punti di vista, al tatto, i profumi, insomma le texture di questi prodotti, è nel lungo termine che riesco davvero a raccogliere i frutti dell'utilizzo costante di questi prodotti. Vediamoli insieme. Il detergente con cui ho appena lavato il viso, il Refresh Face Cleanser, è un detergente super concentrato, ne basta veramente una lacrima da emulsionare con acqua per dare vita a questa schiumetta con cui lavare il viso. Infatti io sono mesi che lo uso e sono ferma qui. È un prodotto molto conveniente perché dura bene nel tempo a base di acido salicilico. Quindi non solo va appunto a pulire il mio viso, ma libera proprio i pori e compie una delicata azione, giorno dopo giorno, esfoliante. Quindi restituisce una pelle con una grana più fine, una pelle più compatta, una pelle più uniforme. Quindi è chiaro che sembra che il viso sia anche più luminoso proprio perché c'è questo effetto più compatto, più disteso, più liscio. Di questo prodotto davvero sto raccogliendo i frutti e calcolate che io sulla mia pelle secca lo alterno a un altro detergente, quindi lo utilizzo o al mattino o alla sera in base alle mie esigenze. Se avete una pelle misto grassa, secondo me lo potete sostenere al mattino e alla sera, quindi probabilmente raccoglierete i frutti anche prima. Reclaim Face Serum. Beh, non voglio farvi perdere tempo perché c'è chi, e vi ringrazio, guarda tutti i video, quindi non voglio annoiarvi, io questo l'ho inserito nella mia top free, quindi i tre siero viso migliori mai provati. Mi sta piacendo tanto, è il secondo che utilizzo. Abbiamo olio di macadamia che ovviamente contrasta la secchezza e contrastando la secchezza abbiamo una pelle più morbida, più elastica e quindi andiamo a prevenire anche la formazione di nuove rughettine. E dall'altra parte abbiamo invece un'azione antiossidante con il tè verde. Credo che sia veramente versatile, piace alle pelli normali secche come la mia, ma secondo me piace molto anche a delle pelli misto-grasse perché è veramente leggero. L'assorbimento è rapido, è un prodotto efficace, è un prodotto piacevole. Andiamo a applicarlo insieme. Passiamo al contorno occhi, la zona perioculare è sicuramente quella più sottile, quella più sensibile e ci vuole un prodotto apposito per lei. Questa è una skincare ridotta di 4 prodotti, quindi è una skincare che mattino e sera vi porta via poco tempo. Una skincare diciamo sostenibile per chi è anche molto impegnato, per chi non ha voglia di avere 10-15 passaggi giustamente, ma un prodotto per il contorno occhi va necessariamente inserito perché è una zona da trattare diversamente rispetto al viso. Qui abbiamo tra l'altro un formato 50 ml, super conveniente, e abbiamo una texture leggerissima. Per me questo vince il premio miglior contorno occhi leggero e idratante, cioè se cercate queste due caratteristiche è il contorno occhi che io ho provato più leggero ed idratante al tempo stesso, spero di essermi spiegata. L'unica accortezza è quella di picchiettarlo, come ha suggerito anche Anna Morana in un suo video, perché se voi lo tirate sembra di spostarlo da una parte all'altra. Invece va semplicemente picchiettato, poi voi non ci pensate, anche se vedete che c'è ancora un pochettino di texture. Passate al passaggio successivo e nel giro di 30 secondi lui si va ad assorbire, non lo vedete più. Non tiratelo semplicemente perché lo spostate da una parte all'altra. Acido ialuronico e olio d'oliva per andare a idratare, lenire, distendere. Il risultato è proprio uno sguardo meno stanco, meno affaticato, più disteso. Ma io penso che tra l'altro si veda. Poi qui io resto segnata, ma per quello ci vorrebbe un miracolo. Passiamo al Restore, la crema viso, nello stesso baratto, 50 ml, in vetro, pack dall'estetica molto essenziale, molto piacevole. Vedete quanto è liquida, quanto è sottile come texture. È veramente rinfrescante. Questi sono prodotti ideali per idratare, revitalizzare la pelle, renderla bella elastica. Soprattutto sono ideali sotto al make-up perché non ungono, non appesantiscono, non creano spessore e veramente utilizzati insieme danno un sacco di soddisfazione. Qui abbiamo un 5% di niacinamide che va a rafforzare la barriera cutanea della pelle, molto importante in questo periodo dell'anno. E abbiamo anche bacuchiol, l'alternativa vegetale al retinolo che quindi va a lavorare sempre sulla grana della pelle. Questi prodotti ovviamente li trovate singoli sul sito di Diyut, ma trovate anche il Diyut Blue Set che li comprende. Tutti e quattro ovviamente passa ad un prezzo favorevole, ma su tutto il sito, anche sul set, passa ulteriormente un 35% con il mio codice MICHILA35. Quindi credo che possa essere interessante mettere per qualcun altro, o trovare sotto consiglio un bel set di prodotti di qualità, ancora meglio di una piccola realtà imprenditoriale con una bella storia e che promuova e sostenga anche dei progetti a favore dell'ambiente. Per esempio con ogni ordine Diyut si impegna a ripulire i nostri oceani da 10 bottiglie, 10 pezzi di plastica e tutto sotto i vostri occhi perché sul sito potete monitorare a che punto siamo della raccolta, quante tonnellate di plastica sono state prelevate grazie all'impegno di Diyut, quindi io vi consiglio ancora una volta vivamente i loro prodotti. Ma passiamo al make-up. La prima parte di base ve l'ho scontata perché è sempre quella. Ricordatevi che quando la skin care funziona potete anche permettervi, volendo, di risparmiare qualche passaggio, qualche prodotto sul make-up perché la pelle sta bene e infatti sono mesi che io sto utilizzando il contour, il face contour di Focalure, colorazione tortilla. Questo è ciò che ne rimane, cioè è su tutto. Vi lascio il link nell'infobox perché adesso lo potete reperire anche su Amazon, colorazione perfetta per pelli chiarissime. Poi, perché lo devo finire ma non ve lo consiglio particolarmente, l'hydrating camo concealer satin finish di Elf, sempre quello. E vado a rafforzare la parte di contour di bronzer con skin bronzing di Nabla nella colorazione soft revenge. Giusto un tocco di colore su labbra e guance, qualcosa di molto sottile, che è accennato, ma che duri, non? Che vada via tra un'oretta e uso il Water Tint di Essence, che è fondamentalmente il dupe di quello di Benefit. Guance, una alla volta perché ho paura che tinga troppo. cupizzerro di Nabla nella colorazione crystalline. Questo appartiene ai nuovi cupizzerro, quelli shimmer, e vado a darlo giusto nell'angolo interno. Le labbra non mi dispiacciono nemmeno così, ma per renderle un po' meno giocose vado a contornarle con una matita un po' più fredda. Questa è la Color Artist, ormai farlo anche mentre mi metto la matita. Color Artist di Makeup Artist. di Makeup Forever. Provo con voi questo piegaciglia che mi ha inviato, temo e vedete che avete i dentini. Non lo so, non l'ho mai provato così, ma non mi fido a utilizzarlo a mascara applicato, perché ho sempre paura di spezzare le ciglia, quindi andiamo ora. Sì? Big & Trick Mascara di Mesauda. Eccolo, va bene così, non vado a stratificarlo troppo, perché comunque sono poco truccata anche sul resto del viso, per i miei standard. e non voglio appesantire troppo gli occhi. Quindi io direi una bella fissata con ciò che resta del fissante di Mulac, che mi si era rotto. Qualcuno di voi sa già tutta la storia, ho così finito, infatti spruzzano anche malissimo, però un po' di glow, dopo tutta questa bella skin care ci vuole. Tampuno, perché quando viene vaporizzato male, soprattutto se c'è una parte perlescente all'interno, rischio che restino delle macchiette. E il profumo amatissimo è lui. Ve l'ho mostrato pieno, appena comprato poco tempo fa. Ragazzi, siamo praticamente poco sopra la metà. Cioè io spero... No, mi sa che siamo già proprio a metà frangipani di erbolario. Anzi no, è l'erbolario. Frangipani di l'erbolario. Oh no, la mia che buona! Felpettina che vi ho mostrato nell'ultimo video haul del Black Friday, super over. Look veloce, fresco, con una pelle in salute, poi per la stanchezza non ci possiamo fare molto, ma la pelle sta bene, il make-up veloce, pochi passaggi, non ho neanche fatto le sopracciglia, profumata. Mancano solo i capelli sciolti, ma secondo me non stavano male neanche raccolti con il look che abbiamo fatto, anche se erano raccolti in maniera molto casereccia. Questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ci sentiamo sempre lì. Grazie della vostra compagnia, ogni informazione la trovate nell'info box, vi mando un grandissimo bacio, alla prossima!